Raghi, stavo giocando a Roblox e nei consigliati mi è capitato questo mondo qui Cosa? Jenny Hobby finale con, sapete quante visite? 6 milioni! Che cosa significa? Poi 50 livelli e 3.000 persone che ci stanno giocando Raghi, cosa cavolo è questa storia? Praticamente hanno fatto un hobby con il mio nome Ovviamente io non l'ho fatto, altrimenti ve l'avrei detto E ci sono io qui che vi saluto Sono io E poi addirittura la mia morph Quindi se voi entrate potete diventare me Solo che io sono già me E ci sono 50 livelli Raghi, io devo arrivare alla fine Voglio vedere che cosa hanno messo alla fine di questo gioco È un hobby super facile, oltretutto mi sa che non serve nemmeno saltare Guarda, eccomi Ogni tanto ogni checkpoint ci sono io Andiamo, raghi, ma che cosa vuol dire? Ma non mi sono messa io Guardatemi Continuo così Ma non sono io Eltretutto ci sono un sacco di Game Pass Un sacco di cose da comprare Raghi, sappiate che se comprate queste cose Non state dando i robux a me Ma un tizio a caso Stai andando alla grande? Oh, grazie Jenny Non me lo sarei mai detta da sola Raghi, assicuratevi di seguire il nostro Twitter E unirti alla nostra community E io non ho nessun Twitter E nessuna community E nessuna community su Twitter È legata a questo hobby Raghi, non sono io Non sono io uno scam Raghi, vi ricordo a metà video che oltre al mio libro Se l'avete preordinato potete entrare nel mio gruppo Mi raccomando, c'è nascosto qui dentro un QR code E potete aiutarmi alla caccia degli hacker Quando volete anche sui commenti E ci sono un sacco di robux per voi se lo fate Mi raccomando, per sapere qualunque aggiornamento Seguitemi su Instagram Vi voglio un sacco bene E lo trovate in tutte le librerie Mi raccomando Ci sono tutti i consigli Per non farsi hackerare Oh mio Dio, raghi Ci sono io gigante Mica mi ero vista Oh mio Dio Dovevo entrare nella mia bocca Raghi, ma che cos'è questo hobby? Vi prego Ma sono io Ma non è giusto Ecco solo dentro la mia testa Ma come abbiamo finito? Ma non è possibile Ci abbiamo messo 5 minuti Ce l'hai fatto? Oh grazie Jenny Beh raghi, non ci credo Sicuramente non seguite E non spendete dei robux qui dentro, ok? Ma grazie a questo hobby Ho visto che anche voi mi avete fatto dei mondi Come per esempio questo Jenny fan club Ok, e ci porta qui Sono blu? Non ho capito perché sono blu Va bene Ed è tipo Non lo so Ci sono delle case Aspetta Non penso mi abbia spawnato nel posto giusto Ok, siamo al centro Ora siamo nel posto giusto Come vedete È diviso in due Da quello che ho capito Le case Dei membri del fan club E poi ci sono i negozi Vorrei andare a vedere Prima le case Non penso ci sia scritto un nome Peccato Tipo questa casa è super carina Piccolina Ci sta Guardate Oh mio dio Sono bellissime Sono fatte benissimo Guardate la camera da letto Poi ne abbiamo qui una tutta esclusivamente blu Posso prendere la mia casa? Oh adesso ho una casa finalmente nel fan club Ovviamente c'è una specie di statua mia sopra 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 la fontana seduta Oh mio dio Poi abbiamo quella villa stratosferica E la casa tutta rosa Addirittura con i petali che cadono dagli alberi Oh mio dio Di chi è questa casa? È bellissima Poi guardate pure il frigo Perché questa casa è fantastica Poi qui abbiamo i lavoratori del McDonald's Noi possiamo lavorare al Mac Abbiamo la polizia Addirittura c'è pure la macchina E possiamo diventare dei poliziotti Poi raghi ovviamente c'è la scuola Per diventare studenti E una specie di supermarket È fatto benissimo Ha tutto quello che serve qui dentro C'è tutto Addirittura c'è pure la spiaggia Guardate c'è pure l'acqua Che si muove Bellissimo Raghi vi ricordo a metà video Che oltre al mio libro Se l'avete preordinato Potete entrare nel mio gruppo Mi raccomando C'è nascosto qui dentro Un QR code E potete aiutarmi alla caccia degli hacker Quando volete anche sui commenti E ci sono un sacco di Robux per voi Se lo fate Mi raccomando Per sapere qualunque aggiornamento Seguitemi su Instagram Vi voglio un sacco bene E lo trovate in tutte le librerie Mi raccomando Ci sono tutti i consigli Per non farsi hackerare Ma ce ne sono altri Jenny fan game Oltre a tutto c'è anche un achievement Che si intitola le origini Oh mio dio Raghi Oh mio dio È carinissimo C'è anche qui la fontana Gli spawn sono un sacco Ma cosa mi stai dicendo Raghi c'è un cinema Con le mie foto sul muro Sono due video Oh mio dio Qui c'è scritto Ciao Ci sono io con la vecchia skin Adesso è questa Quella nuova Guardatevi Prima e dopo Super carino Poi ci sono delle varie case Anche qui c'è un altro cinema Un Mac Un KFC C'è le Roll Che c'entra Vabbè c'è le Roll Ho visto che è lì in alto Raghi C'è Fili Poi pure la scuola di Brookhaven Sì eccolo Raghi c'è proprio Fili E poi addirittura Un altro lì sopra Che Non ho idea Oh Ma C'è qualcosa Aspettate un attimo Ho visto Ho visto qualcosa Cosa sopra la casa Ci sono tipo io Con un Con una specie di ninja Oh sono io Jenny versione 1.0 Ho preso il premio Le origini Era qui E poi c'è Penso sia il creatore del gioco Non lo so Ok quindi Se andate qui Prendete l'accidento Per questo mondo Fantastico E il cinema Penso sia solo modificato fuori Oh no C'è il mio film Proprio Bellissimo Robby e Jenny Fan game Oh mio dio Raghi praticamente Allora ci siamo Io e Robby allo spawn Andiamo con la macchinina Poi c'è E' Mickey? Chi è? Poi c'è Pinky? Non vedo nessun altro Non vedo Né Franci Né Anthony Né Fili Nessuno Abbiamo due case Ovviamente la casa Sull'albero di prima Un distributore di benzina E le casette E poi c'è questo house party Che a quanto pare è tipo Ma cos'è una ruota per cricetti? Però io non lo so È tipo quello dove giocano i bambini Ma è gigante Io se dovessi scegliere una casa Sceglierei questa Oh mio dio Raki Aspettate forse Devo trovare tutti i personaggi Tipo Ok questa è casa sua Quindi scusami Ce ne andiamo Oh ma non l'avevo visto C'è Franci a fianco Con una banana gigante Vabbè Lara Però questi sono tutti Gli amici di Robby Raghi c'è qualcuno Che non riconosco Sotto al letto Riuscite a dirmi Chi è nei commenti? Oh eccolo Anthony E la porta è partita C'è Anthony Che sta comprando Dei boomerang Va bene Poi c'è Reroll E raghi Ho cercato anche Nell'ultima casa Ma non c'è Fili Manca Fili In questo server Oh Non è vero Ecco voi Fili Siamo sempre Nello stesso punto Sempre qui a guardare L'orizzonte Fili Con un albero E poi ho trovato questo Sto sclerando Perché oggi Jenny Perché oggi C'era la live E l'ho incontrata Oh Ci sono solo Case per Casette per cani Cibo per cani Un cane Odoriamoci il sedere Vai Ci diamo intorno Come i cani Vai vai Su Ok perfetto Poi un trenino E delle gemme Certo gli altri Forse erano Un po' più Dettagliati Però ci sta Va bene Mi piace E poi soprattutto Posso mangiarmi il cibo per cani E mettermi un uovo in testa Raghi Se avete altri mondi Da farmi vedere Mandatevi Nei messaggi di Roblox Perché sono aperti A tutti E vi ricordo Che è uscito il mio libro In libreria E soprattutto Che questi giorni Sono al Romics Quindi se volete passare Sapete dove trovarmi E